Vite spezzate è uno spettacolo innanzitutto, è un progetto più articolato che i teatri di Bari, in particolar modo il Kismet, i teatri di Bari sono Kismet e Abeliano, che il Kismet cura da diversi anni con la regione Puglia e con l'INA. Questo ci fa capire il senso del termine vite spezzate, parliamo di sicurezza sul lavoro e di prevenzione. Abbiamo presentato, e sono online, quindi si possono anche visionare, sei cortometraggi realizzati dal regista Alessandro Piva sul tema delle morti bianche. Alessandro ha fatto sei brevi corti ispirati allo spettacolo Vite spezzate, diretto da Teresa Ludovico, la nostra direttrice artistica. Questi sei corti raccontano sei diverse storie di morti sul lavoro legate alla mancanza di sicurezza, detto in estrema sintesi. Questo lavoro di Alessandro si inserisce in un contesto più ampio che è quello di un progetto rivolto alle scuole superiori della regione Puglia, le quarte e le quinte superiori di tutti gli istituti. I ragazzi in questi giorni stanno visionando sul sito a scuola di prevenzione questi cortometraggi, prenderanno ispirazione da questi corti di Piva per realizzare a loro volta dei prodotti artistici, quindi sia video, sia racconti, sia disegni, che raccontino appunto le vite spezzate, quindi il tema delle morti bianche. C'è un concorso a tutti gli effetti che verrà espletato a giugno. I vincitori di questo concorso riceveranno un premio per la scuola. Con questi soldi le scuole metteranno in sicurezza, cioè faranno dei piccoli lavori di adeguamenti oppure dei momenti di formazione, chiaramente a seconda della necessità delle scuole. Quindi questo è il progettone all'interno del quale si inserisce il lavoro di Piva. Allora ascolta Francesca, il lavoro di Piva che io ho avuto modo di vedere naturalmente è un lavoro molto interessante ed anche molto particolare, perché dato il tema, che insomma non era particolarmente allegro, e quindi voi capite bene, presentare questo tema ai ragazzi è una maniera anche abbastanza difficile, però anche fatto in maniera delicata. Piva ha avuto questa idea, ha inserito, e noi lo vedremo tra poco in uno di questi cortometraggi, ha inserito delle interviste ad attori che parlano in dialetto, nei diversi dialetti della Puglia, perché voglio dire, al di là di quelli che sono gli stereotipi, che tutti credono che la Puglia abbia un unico dialetto, noi che in Puglia ci siamo sappiamo benissimo che i foggiani parlano in una maniera completamente diversa dai leccesi, anzi i foggiani rassomigliano più ai napoletani, ai leccesi più ai siciliani. Figuratevi noi, baresiche. Bene Francesca, quindi adesso vediamo uno di questi cortometraggi, vedremo questo in particolare, è fatto con delle immagini e con delle parole in dialetto baresi, però con sottotitoli in italiano. Vediamo. A me, fin da quando eri creatura, a me è sempre piaciuta stare sui terrazzi, a me è sempre piaciuta guardare i cristiani che da adesso si parano a vedere piccinini piccinini come i formigli, e a me è sempre piaciuta stare sui terrazzi, e quando era tornato solo sopra come ho piaciuto se mi ricordo che non mi ricordo che ero a presa il nonno, a stenda, e mi passavi in molletto. Lassù, siccome non giuseva molto buona a scuola, che ho avuto bolletto da volte. Un amico di Tana una volta mi ha detto «Peppi, Peppi, lascia stare a scuola. Voi non fatti a me che già gli parlate cattando». Ed faceva anche la vendazione delle guaine sui terrazzi. Ehi, appena gli ho sentito parlare di terrazzi, prima e prima gli ho detto sì. E così gli ho passato tutta la vita a me da Susi. E sono diventato veramente breve, eh. veramente esperto. Un vero maestro. Lì, però, mentre stavo a fatti a Susi Capannone dalla zona industriale, no? Stavo a mettere una guaina, e mica mi ha avvertuto che gli ho fatto da passandrete e sono asciutato per cercare i pit su Susi Lucernaio. La moglie ora dice sempre «Peppi, Peppi, tu mangi a sé, Peppi! Tu erai a mangiare più picco!» E io gli ho rispondito «Eh, tu, guagna d'ama? Non già conoscire da chi si vuoi?» Per te. E che su Susi Lucernaio ne manchi iati se vuoi? Se vuoi te ne cambiano, eh. Abbiamo visto uno dei cortometraggi e ora voglio chiedere a Francesca Limongelli che peraltro io conosco da tanti anni perché ho avuto il piacere di incontrarla tante volte nella Mediateca di cui è stata addetta stampa nella Polia Film Commission di cui è pure stata addetta stampa e anche in altre occasioni recentemente anche al B-Fest di cui è addetta stampa. Quindi volevo chiedere, gli altri filmati come si può fare per vederli e come possono fare i ragazzi per partecipare a questo evento? Gli altri cortometraggi si possono vedere sul sito www.ascualadiprevenzione.it Le scuole si sono già candidate in queste settimane quindi i ragazzi hanno già iniziato a lavorare da 2-3 giorni sono 50 le scuole che hanno aderito e sono 3500 più o meno quindi ragazzi coinvolti in questa attività. Quindi chi li vuol vedere comunque li può vedere appunto sul sito www.ascualadiprevenzione.it non è chiuso alle scuole partecipanti insomma.